il cane è andato è andato, fufi credo che potrei anche toglierli i sottotitoli tanto non è che siete sordi o almeno spero per voi che cosa è successo? si è capitato anche qualcosa di strano in realtà ora te lo dico Sant'Antonio inoltre non ci ho mai fatto caso questo ha un piccolo particolare guardate lo specchietto retrovisore quanto è bello Tommy dai parabriz guardando per specificare parabriz non è un deodorante mi aspetto già qualcuno che si mette davanti e mi blocca la mia corsa che dilevi meno male che mi togliete togli scivola ormai siamo nati che dobbiamo per forza fare la strada più lunga oh va questo fa il butterflip ah c'è che era addosso pizzeria tavolo da biliardo peccato che le vale da biliardo sono diventate dei mattoni che bello ma com'è morto come si muovono hanno dei movimenti così eleganti si dice non disturbare il cane che dorme malede no via ecco io mi volevo allontanare ho iniziato a minare quello finiscilo tu oh c'ho gli abbaglianti se mi tocchi ti ammazzo qua già se le danno di santa ragione salve oh mi sei già antipatico quindi non ti parlo venga arrivo non si fa così il segno delle luci è troppo stilizzato permette che si offendano? eh poi lamentatevi girate i tacchi e andatevene ora fanculo a riparo primo i tacchi non ce li abbiamo secondo quando incavolate la testa ah colpo in testa ah non ho finito con quattro cefoni in faccia manca fossi but spencer o tene in silla è proprio a dire che dobbiamo perdere tempo è l'unico che potrebbe vedermi vabbè ciao qua non ci muoveremo più via 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 ecco ah maledetta te oh e meno male che gli ho dato la bottiglia in testa non dovevi vedermi e se mi difendi io stavo di spalle ma tu l'avevi visto possivi prenderlo tu oh qua li fanno queste scatole sono delle scatole fantastiche veloce veloce ci vedete ti pareva la fanghepa la vuoi finire zambatucos metto lo scaffo in testa madonna madonna santa non è caduto addosso all'acchio che chi si ha fatto lì abbassati non correte rischi ma non stiamo correndo se non corriamo non corriamo rischi ma porca la miseria mi ha fatto pure spaventare sta zitto giatto togliti togliti oh è inutile si rimane rimane davanti com'è sono faccio una sincrive oh che spingi oh elli attenzione adesso elli mi spinge elli stai bene non gridare c'è fai il rimbombo qui vale che rumore qui qui ci va lì questo è proprio facciamo l'orchestra questo armadio oh c'è una porta lì come ci arriviamo qualcuno si deve sacrificare uno la apre e poi gli altri purtroppo quello che la aprirà potrebbe morire ma è un rischio del mestiere non so se qui ci va no no devo vedere da sopra probabilmente lì c'erano altre risorse su per le scale mobili merda che paura non me lo stai a dire io mi sto cagando sotto ci senti che casino dovrebbe esserci messo NONI por- por- porca miseria cialadra e chi l'aveva vista questa che fa? no raga siamo morti questa ha svegliato tutto ha chiamato tutto il vicinato diciamocelo questa è sfiga proprio non stiamo morendo manca una volta invece patata patatracche sto pure sbagliando combinazione necessaria ma abbiamo da poter ma sei serio? ma i clicker non pot- non fanno quelle mo- ma come mo veramente? da quando in qua i clicker sanno scavalcare i muri? tanto so tutti i clicker non ci vedono e mannaggia te a posto bella lì tutta sta fatica buttata sai dove non te lo dico nemmeno che casino mi sono stonato le orecchie da fermo ha fatto cadere pure un vaso o di nuovo il vaso è caduto il bastone il mattone fa la rima niente voleva per forza doveva per forza prendermi ma che bella faccina ecco è quello l'edificio si non lo vedo ma ciao i cini e io ti avevo detto paperelle paperelle ecco le sue paperelle melano ooooh piano piano ma affondava è un angelo è un angeli eeeh elly si è buggata oh elly piano piano eh no piano piano un passo alla volta forza non sarei mica un personal trainer è uscita dalle piante omer invece entrava nel cespuglio ooooh ok per bob i fogli che passano davanti sono bellissimi no sta sta lontano da ooooh ok via ce pigliano ecco ma non ho preso mannaggia te Bill ma quando ti muovi è sempre tardi comunque va va che me ne vado ceppo Bill pensaci tu e va bene le vuoi e te le do di santa ragione pensavo dovessimo riparare un'auto dovessimo tu sai riparare Bill ma questa non la finisce di prendere in giro ehh Bill non ho idea di che aspetto abbia all'interno dei motori Bill via madonna quella è volata una bottiglia sarai stupido pure tu che ti sei fatto prendere è figlio mio ah ah a posto i clicker sanno salire sanno scavalcare che bello la cantina è qui dentro oggi facciamo una bella suonata ti faccio vedere quanto so suonare bene si si muova dottor pivetta ma che bel primo piano te l'ho fatto shhhh questo che corre mi odio quelli appare sta zitta e non fate rumore ma come vado io silenzioso sta fermo con quel fucile ti levi elli mannaggia te eh si all'albero te stai fermo ma questo qua da dietro ah fantastico ci siamo pure fatti i mali per danno da caduta mali poi via col clicker via ah ah ma sono gatti sta zitto io devo per forza sterminare tutta la fauna infettata si elli mentiti pure in me questo mi taglia pure la strada te lo sto e va bene non volevi essere spaccato spaccato in testa e ora vado vado qua dietro ha fatto la pirouette vai ma vai ma vai perché non va ragazzi non va che maleficio è questo raga mi pare che sono morto raga mi sa che ho bugato il gioco me ne danno di santa ragione eh scappa ma entra vi devo dire guarda ammazzatemi eh se vuol sono vostro no niente vi ammazzatemi che vi devo dire seppure è bugato il gioco ma guarda un po' eh tanto piaci è successo raga ne sto vedendo di ruba eh in un nanosecondo madonna sa ma è mai possibile è mai possibile ma ritorniamoci pure io spero che abbia salvato la partita e che mi faccia partire da qui perché sennò mi arrabbio il problema è questo Bill non si muove non è che si muove ad aprire di nuovo facciamo che bello quante belle cose oh finalmente si Bill fallo tu muoviti Bill questo lo faccio io chissà perché si bugga tutto va va lo fa lui fa tutto bene va va che va proprio dove devo andare io quanto sono contento madonna 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 chi stai fermo tu da dietro manesco oh va lo spacco in testa giuro fosse l'ultima cosa che faccio non mi toccare come un suo dito mi chiamavano lo spaccatutto olè lo chiamavano il grasson ma colpo perfetto non so quanti colpi servono per abbatterlo vadovi vedere che avrò finito tutti i colpi a posto pure mancato cioè se questo fosse stato l'ultimo adesso non lo è più ahwe ma nesco butta giù le mani se no te le butto io anzi butto giù i denti potevi tirarmi su prima tanto mica mi prendevano fin che arrivavano spiegami cosa cambia e te cosa cambia per te salita 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 e che passano da sotto vieni qua ti faremo un urlo cos'è nota di frente no vabbè raga qua assolutamente dovete stoppare perchè leggerete qualcosa di bellissimo veramente vi affascinerà quella lettera come non vi ha mai affascinato nient'altro facciamoci una bella scampagnata appresso ai runner mannaggia a te Bill Bill mo t'ammazzo Bill anche arriva uma truma si si t'ammazzo io con le mie mani URCA 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 questo da dove compa te ne do di santa ragione eh non si molestano i bambini ue 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 buono eh no non la sta per ammazzare vero ma è che stavo rischiando ferma con le mani eh non ho capito cos'è successo che belli che siete ti levita wow da che si l'ha fatta ehi m'ha superato da giù bel colpo in testa cazzo e se stavo sta fermo non sparare c'ha pure i capelli bianchi e hai scorreggiato madonna e questo da dove ho sparito oh e 50% di sconto vabbè raga non potete capire poi di cosa è successo praticamente se ne è andata la corrente ho fatto anche la rima fortunatamente ha salvato solo che adesso devo riprendere tutte le risorse che avevo preso finora e siamo al punto abbiamo finito il combattimento e penso che sia arrivato il momento che le dica le barzellette non lo so poi se non le vuole più dire non se la prendesse a male perchè non è colpa mia se se ne è andata la corrente vediamo quando ho preso tutte le cose vi do appuntamento dovrebbe essere lì vi do appuntamento lì no no abbiamo già fatto che non è qui qui vi